Ben trovati da Nikos che ho detto a un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Partiamo dalla mappa della nuvolosità perché ci sarà un cedimento dell'alta pressione in giornata sulle regioni settentrionali per l'arrivo di correnti più fresche e umide in quota oceaniche che mischeranno dei temporali. Invece regnerà sempre indisturbato l'anticiclone al centro-sud per una nuova giornata molto calda sulle zone interne. Ne dettaglio la mappa delle precipitazioni per capire quello che succederà. Inizialmente il tempo abbastanza buono su tutto lo stivale anche al nord, poi dal pomeriggio i temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, Settentrionale. Guardate come tra il terzo pomeriggio e la serata i temporali però bagneranno anche molte zone pianeggianti del nord, specie Lombardia, Emilia Romagna e Venezia. Temporali come sempre in questi casi data la tanta energia localmente di forte intensità. In sintesi la mappa abbiamo detto seconda parte del giorno, rischio temporali elevato al nord, al centro-sud regna indisturbata l'alta pressione subotropicale con ancora grande canicola. Tutti i dettagli precisi sull'app di Tredi Meteo.